Ciao Jack Abbiamo fatto tremare i pilastri del cielo, non ti pare? Puoi dirlo forte Sì, lo dico forte I consigli del vecchio Port Shop Express sono preziosi specialmente nelle serate buie e tempestose quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice Mena il tuo colpo più duro, amico Non mi fai paura